Salve, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aumentare gli FPS sul nuovo Horizon Forbidden West ovviamente per risolvere così il problema lag, ai problemi di Crash basta solamente avere un piccolo programma, anche un piccolo software e in questo caso possiamo aumentare gli FPS sul nuovo Horizon, quindi il nuovo Horizon è lasciato su PC, finalmente su PC quindi in questo caso andiamo un attimo sul pannello, scrivi Nvidia Control Panel, se non hai questo pannello di controllo te l'ho lasciato in descrizione in questo caso ormai è integrato anche nell'applicazione Nvidia ma ovviamente faremo tutto sulla vecchia applicazione del pannello di controllo di Nvidia quindi in questo caso mi sono sempre trovato benissimo con questo pannello quindi andiamo su impostazioni, programma, seleziona un programma da personalizzare quindi vai su aggiungi, andiamo così a sfogliare il nostro programma e vai a mettere, eccolo qua vai a trovare la cartella e poi scegli così l'applicazione e fai apri una volta fatto non ci resta che configurare così le funzionalità del gioco sul pannello di controllo come puoi vedere io ho messo quelle che mi consiglia Nvidia e quelle che ho messo io stesso ridimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza, metti disattivato l'anti-else correzione gamma, metti attivato scendi fino a giù fino a trovare il filtro, struttura, ottimizzazione, campione, metti attivato filtro, struttura, ottimizzazione, trilineare, attivato filtro, struttura, qualità, al posto di qualità metti prestazioni elevate su frequenza fotogrammi massimo metti fino a 1000 fps ovviamente non è che farai 1000 fps però daremo un po' di fps in più al gioco scendi fino a giù fino a trovare la modalità bassa latenza metti ultra e sulla tecnologia monitor metti compatibilità G-Sync la più elevata disponibile sulla velocità di aggiornamento preferita e sincronizzazione verticale metti disattivato una volta fatto non ti resta che applicare le impostazioni una volta fatto in descrizione ti ho lasciato un altro software che è utilissimo ovviamente bisogna anche testarlo per quelli che hanno una scheda grafica AMD ovviamente su Nvidia funziona perfettamente il programma si chiama Nvidia Profile Inspector ti ho lasciato in descrizione il pacchetto RAR che all'interno del pacchetto RAR troverai la cartella con il programmino all'interno ovviamente non c'è il gioco Horizon Zero cioè non c'è Horizon Forbidden West perché c'è ancora il primo quindi tu vai a mettere il primo clicchi qua sopra quindi aggiungi un'applicazione al profilo vai su Horizon Forbidden West e ci metti l'applicazione questa qua quindi vai a scrivere di nuovo Horizon ed eccolo con Horizon Forbidden West.exe una volta fatto ed eccole qua queste sono le impostazioni che abbiamo messo su il pannello di controllo di Nvidia scendi fino a giù fino a trovare l'antiagliosi in questo qua multi sampling setting questo qua e metti SS8X scendi fino a giù su questo SS8X e quest'altro invece vai a mettere sul 0 per finire 30 AA scendi fino a giù fino a trovare così la texture filtering da più 0 metti più 3000 riduciamo così la texture al gioco e più 3000 3.40 una volta fatta applica più volte sul pannello se non ti piace come è venuto fuori il gioco puoi sempre ripristinare quindi ritorna alle impostazioni predefinite chiudiamo qua e ora non ci resta che configurare le impostazioni sul gioco ovviamente io come scheda grafico ho la 1660 Super con il processore Ryzen 5 1600 e sto giocando in Full HD e questi sono gli FPS che vedi in alto a destra ovviamente se vado un attimo su impostazioni qui c'è grafica metti predefinite quelle basi centri fino a giù fino a trovare il filtro texture metti l'anisotropico 2x qualità ombre quelle basi ombre screen space no no livello di dettaglio base minimo campo visivo metto meno 5 bloom la sfocatura profondità di campo metti no nitidezza ed eccola qua la nitidezza ovviamente se l'aumento riduciamo così gli FPS però migliorerà così la qualità al gioco io lo metto su 1 intensità sfocatura di movimento quando ti muovi c'è la sfocatura intorno a te lens flare questo metti no la vignettatura la sfocatura radiale che è veramente fastidiosa l'aberrazione cromatica metti no ora andiamo su schermo risoluzione grafica io metto full hd proporzione 16 oppure puoi mettere direttamente automatico formato letterbox sincronizzazione verticale da sim e t no per mettere gli FPS illimitati e basta facciamo sì ovviamente il lag non c'è gli FPS sono aumentati di un bel po' quindi la configurazione era questa siccome impostare la grafica al meglio aumentando un po' gli FPS ovviamente laggavo quindi da tra i 21 e 22 FPS a 54 a 60 FPS in un attimo grazie anche alle impostazioni del gioco più i pannelli di controllo che ti ho fatto vedere prima siamo riusciti ad aumentare di 30 o 40 FPS in più quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare gli FPS su un nuovo Horizon iscriviti, lasciate un like per altri problemi commenta sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao